Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di una serie di interventi operati su tutta l'area metropolitana, oltre 1.600.000 articoli contraffatti e non sicuri, tra cui capi di abbigliamento e gadget connessi all'evento sportivo Wi-Fi Euro 2020, e mascherine prive delle certificazioni minime di sicurezza ed indicazioni per il consumatore, quale l'importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche e lingua italiana. In particolare, nel capoluogo, il secondo nucleo operativo metropolitano, il secondo gruppo Porto e i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, hanno sequestrato rispettivamente nel quartiere Barra, in un negozio gestito da cittadini cinesi e tra i quartieri fuori rotta e in zona stazione a dei venditori abusivi, 1.500.000 prodotti contraffatti o non conformi di note griffe Chanel, Dior, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Gucci, Supreme, Fendi, Ripuc, Moschino, Prada e Barberi, tra cui tute e maia della nazionale di calcio. In provincia, tra Sant'Antimo e Giuliano in campagna, sequestrati dai finanzieri dei gruppi di Frattamaggiore e Giuliano, rispettivamente presso un emporio cinese e a degli ambulanti, 35.000 articoli non sicuri, tra accessori per la cura della persona e bandiere tricolori, maglie e vari gadget della nazionale. Anche a Pompei Attore del Greco, sequestrati rispettivamente in un emporio cinese ad un commerciante ambulante, 5.500 gadget connesse ai campionati europei di calcio, privi delle indicazioni minime per il consumatore sull'origine, provenienza e sulla qualità. Infine, sequestrati in un negozio di abbigliamento di Nola e presso un rimeditore all'ingrosso di biancheria di Ottiaviano, quasi 800.000 mascherine non a norma. E tra San Giorgio a Cremano, Ercolano e Barano di Ischia, presso diversi negozi gestiti da cittadini cinesi, quasi 63.000 tra articoli di cartoleria, materiali elettrici e accessori di moda, privi delle indicazioni obbligatorie, tra cui il marchio CE. Denunciati nel complesso all'autorità giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi, sei responsabili, sia italiani che stranieri, e segnalati altri dieci alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. L'operazione rientra nel quadro dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e repressione della contraffazione, uno dei fenomeni su cui maggiormente si concentrano le speculazioni legate all'emergenza Covid-19, programmata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a tutela dei cittadini, in concomitanza con l'avvio dei campionati europei di calcio Euro 2020.